Nel weekend scorso a trionfare a Dimola sono stati Federico Leo ed Eddie Civer III su Ferrari 458 Italia che si contenderanno il titolo al Mugello il 16 ottobre con Russo e Zonzini su Audi R8 LMS. In corsa per il trofeo stagionale Gentleman c'è anche il team Maluccelli con i piloti Marco Galassi e Simone Tempesta. La stagione quest'anno del campionato italiano GT noi la riteniamo abbastanza positiva soprattutto perché noi partecipiamo a questo campionato con una vettura guidata da piloti Gentleman che non aspirano alla vittoria assoluta ma aspirano alla loro classifica. Abbiamo rimasto l'ultima gara del Mugello che è il 16 ottobre dove noi siamo ancora in lista per vincere il campionato per dei Gentleman dove noi siamo molto fiduciosi di poter raggiungere questo obiettivo.